salve a tutti e bentornati su soluzioni pc oggi parleremo di un avvenimento molto recente quello della disattivazione di ublock origin su chrome se utilizzate ublock origin per bloccare le pubblicità su google chrome potreste aver notato che recentemente l'estensione è stata disabilitata ma cosa sta succedendo e soprattutto quali alternative abbiamo oggi vi spiegherò tutto e vi presenterò anche un'alternativa valida a la soluzione del problema partiamo col dire che cos'è ublock origin è un'estensione che è diventata molto popolare in questi ultimi anni che ci ha aiutato per vario tempo appunto a bloccare le pubblicità indesiderate migliorando la nostra esperienza di navigazione e proteggendoci da contenuti pericolosi però cosa sta succedendo nell'ultimo periodo google sta aggiornando il modo in cui le estensioni funzionano su google chrome passando dal manifest 2 al manifest v3 questo cambiamento senza entrare troppo nello specifico mira a migliorare la sicurezza e le prestazioni delle estensioni ma ha causato la disabilitazione di estensioni come ublock origin appunto che non sono più compatibili con il nuovo standard la soluzione c'è non vi preoccupate adesso vediamo come fare per prima cosa apriamo google chrome in alto sulla destra troveremo questo piccolo pezzo di puzzle che riguarda le estensioni possiamo cliccarci sopra e andare su gestisci estensioni qui troveremo la schermata di tutte le estensioni che abbiamo installate sul nostro browser andiamo a ricercare ublock origin e clicchiamo sul tasto rimuovi e poi confermiamo ecco qui che è rimossa in un attimo dobbiamo adesso andare a cercare la nuova estensione che è sempre dello stesso produttore quindi ha la stessa affidabilità della precedente ma è compatibile con il nuovo manifest v3 e rispetta le politiche di sicurezza e di prestazioni imposte da google clicchiamo sulla sinistra su chrome web store qui andiamo a cercare ublock origin light nel mio caso l'ho già installata ma nel vostro caso qui potrete cliccare sul pulsante per installarla una volta installata vi verrà chiesta una veloce configurazione nel mio caso ho lasciato tutto più o meno come semplicemente aumentato il filtraggio su ottimale invece che basilare una volta cliccato su ottimale possiamo chiudere la schermata riaviamo il browser ed ecco che in alto sulla destra troveremo l'icona di ublock origin infine vi ricordo che se ublock non soddisfa le vostre esigenze potete considerare altre estensioni compatibili con il manifest v3 vi lascio qui in sopraimpressione alcune alternative che potete trovare sempre nel web store delle estensioni detto questo vi ringrazio di aver guardato fatemi sapere come vi trovate con il nuovo adblock spero di esservi stato utile se volete lasciatemi un like e non dimenticatevi di iscrivervi al canale per altre soluzioni pc detto questo vi saluto alla prossima ciao